Buongiorno e benvenuti a tutti su Grey Witch, il programma di politica internazionale del canale 264 del digitale terrestre. Io mi chiamo Ludovica Iacovacci e nel corso di quest'estate vi accompagnerò a scoprire gli scenari della grande politica internazionale per fare un giro del mondo a 360 gradi, per capire insieme gli altari e i contraltari della politica estera, affinché questa tanto annosa e complicata materia possa essere resa alla portata di tutti. Oggi parleremo di uno Stato molto vicino all'Italia, uno Stato con il quale condividiamo una gran parte della storia, gran parte della cultura e dal 25 giugno possiamo anche dire il colore politico. Innanzitutto collochiamoci. Voliamo infatti in Grecia per parlare di importanti elezioni politiche che si sono svolte lo scorso 25 giugno a seguito delle precedenti, svoltesi il 21 maggio e cercheremo di capire cosa è successo. Come nostro consueto, alla nostra maniera, alla maniera di Greenwich, lo faremo insieme ad analisti geopolitici e giornalisti che possano spiegarci il perché e il per come di determinati eventi e lo faremo insieme ai nostri graditissimi ospiti internazionali. Qui negli studi della Cusano Media Group avremo l'onore di ospitare una ristoratrice italo-greca. Prima però inizia il nostro consueto giro del mondo. Lo facciamo attraverso le due notizie più importanti a livello di politica internazionale della settimana che riguardano il primo un vertice, due vertici in realtà USA, Cina, Stati Uniti e il secondo l'importante accordo sul grano che collega la Russia, l'Ucraina e il resto del globo. E poi inizieremo la nostra rubrica, la nostra Invisible News con le due notizie invisibili della settimana. Partiamo quindi con il servizio che riguarda il vertice USA, Cina, Stati Uniti. Venerdì 14 luglio si è tenuto un importante vertice internazionale che lega la Cina all'Unione Europea. L'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josef Borrell, ha incontrato il direttore della Commissione Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Wang Yi, a margine del trentesimo forum regionale ASEAN in Indonesia. Wang Yi ha chiesto a Josef Borrell che l'Unione Europea chiarisca le sue relazioni con Pechino a vent'anni dalla firma del partnerariato strategico globale, con toni rilassati e concilianti. Nell'incontro faccia a faccia, Borrell ha sottolineato che la Cina è innanzitutto un partner molto importante per l'Unione. Riguardo al conflitto russo-ucraino, Borrell ha risposto che si aspetta che la Cina contribuisca a porre fine alla guerra e che fornisca assistenza umanitaria. Xinhua, la maggiore e più antica agenzia di stampa cinese, riporta che entrambi hanno parlato della volontà reciproca di sviluppare relazioni costruttive e a lungo termine. Borrell ha detto che il confronto tra sistemi non è supportato dall'Unione Europea e ha ribadito che il derisking non è disaccoppiamento. Wang Yi ha sottolineato come il conflitto di interessi è inesistente tra Pechino e Bruxelles e ha invitato la controparte europea a salvaguardare il libero scambio. Si è parlato anche della complicata e delicata situazione di Taiwan. L'Unione Europea non ha mai sostenuto l'indipendenza di Taipei. Abbiamo anche discusso di preservare la stabilità e lo status quo nello stretto di Taiwan, ha detto Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Si sarebbe dovuto recare già in passato a Pechino, ma gli incontri vennero cancellati. Il capo della diplomazia europea ha scritto su Twitter di volersi recare presto in Cina per il dialogo strategico tra UE e Repubblica Popolare. Attendiamo con ansia di tenere presto il dialogo strategico a Pechino e di approfondire l'impegno reciproco sulle sfide globali comuni, ha concluso Borrell. Secondo diversi analisti cinesi, l'incontro tra Borrell e Wang Yi si è rilevato particolarmente positivo. L'esperto, Kui Hong Yan, ha parlato di slancio positivo dell'Unione Europea, mentre Wang Yi Wei, della Renmin University of China, ha detto che l'Europa è diversa dagli Stati Uniti e non cerca una nuova guerra fredda. Lunedì 17 luglio e martedì 18 luglio si sono tenuti altri importanti vertici internazionali per le relazioni USA-Cina. L'inviato della Casa Bianca per il clima, John Kerry, ha incontrato l'omologo cinese Xie Xenua, il capo della diplomazia del partito comunista cinese Wang Yi e il premier Li Qiang. Si è parlato di emergenza climatica e Kerry ha affermato che la cooperazione per il clima rappresenta un punto d'incontro capace di appianare le tensioni emerse tra i due paesi negli ultimi anni. Parola chiave, agire con urgenza. Washington e Pechino devono intraprendere azioni urgenti su una serie di fronti, in particolare sulle sfide dell'inquinamento da carbone e metano, ha twittato l'inviato USA. La crisi climatica richiede che le due maggiori economie del mondo lavorino insieme per limitare il riscaldamento globale, ha aggiunto. Il cambiamento climatico è una sfida comune a tutta l'umanità, ha commentato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning. Dopo quasi un anno di interruzione, dopo che lo scorso agosto Pechino ha sospeso le discussioni su questo tema per protestare contro il viaggio a Taiwan di Nancy Pelosi, allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, i due paesi maggior inquinatori al mondo riprendono ufficialmente il dialogo sul cambiamento climatico. E dopo questi importanti vertici che legano Pechino, Washington e Bruxelles, voliamo in Europa perché un importante accordo sul grano, ovvero il destino dell'importante accordo sul grano, è stato discusso proprio tra Russia e Ucraina. Il servizio. La Russia si è rifiutata di estendere l'accordo del grano con l'Ucraina. L'iniziativa, avviata il 21 luglio 2022, ha assicurato che le navi cariche dei cereali ucraini potessero lasciare senza pericoli i porti del paese affacciati sul Mar Nero, così da raggiungere diversi paesi a basso reddito la cui sicurezza alimentare dipende proprio da queste esportazioni. Ma tra i primi importatori si trovano anche altri stati, tra cui l'Italia, dove la mancanza di queste scorte rischia di comportare un nuovo aumento dei prezzi. Il ritiro delle garanzie di sicurezza per la navigazione dei cargo mercantili comporta la fine del corridoio umanitario marittimo e la cessazione delle attività del centro di coordinamento congiunto a Istanbul, istituito per monitorare l'attuazione dell'accordo. Il Mar Nero nord-occidentale torna allora ad essere un'area pericolosa per la navigazione. Come riportano le Nazioni Unite, che hanno mediato per siglare il primo accordo, circa l'80% del grano distribuito nel mondo dal World Food Programme nel 2023 proveniva proprio dall'Ucraina, in crescita dal 50% del 2021 e del 2022, equivalente a circa 725.000 tonnellate distribuite tra Afghanistan, Sudan, Etiopia, Kenya, Somalia e Yemen. Inoltre altri cereali ucraini sono stati distribuiti in altri 45 paesi in tre continenti. In cambio della sicurezza delle navi cargo cariche di cereali, le Nazioni Unite hanno concesso alla Russia, responsabile dell'aggressione contro l'Ucraina e della conseguente crisi alimentare, di poter continuare a esportare cibo e fertilizzanti convincendo gli stati occidentali a non imporre sanzioni contro questi prodotti. Ma il Cremlino ha accusato l'Occidente di non aver rispettato questa parte di accordo e di non aver distribuito i cereali ucraini nei paesi a basso reddito. Ha poi preteso la riapertura delle esportazioni di ammoniaca e la riconnessione della sua banca agricola al circuito di pagamenti internazionali SWIFT. Collegamento sospeso dall'inizio dell'invasione per impedire l'evasione delle sanzioni occidentali e che i commerci internazionali russi potessero finanziare l'invasione dell'Ucraina. Secondo le diplomazie occidentali, Mosca starebbe utilizzando la crisi alimentare di Mezzomondo e le vite delle persone in pericolo di fame e carestia per ricattare l'Occidente e proseguire nell'invasione dell'Ucraina, utilizzando la destabilizzazione dei paesi più poveri a suo vantaggio. Ora circa 33 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, di cui 8-9 milioni di grano tenero, dovranno essere lentamente spostati via terra, presumibilmente innescando un aumento del 20% dei prezzi dei cereali, come riporta Reuters, ed aggravando l'insicurezza alimentare di diversi paesi. La presidente della Banca Centrale europea, Chrissy Lagarde, ha parlato di shock economico globale. E parte adesso la nostra amatissima Invisible News, rubrica dove facciamo luce sulle notizie in ombra. Sigla! Iniziamo dall'Oceania e iniziamo dall'Australia. Sempre più giovani australiani fanno fatica ad arrivare a fine mese. Complici sono diversi fattori, dall'incremento dei mutui e degli affitti ai salari rimasti invariati. Il servizio! Dilaga la fame in Australia, cresce sempre di più il numero degli australiani, che non possono permettersi due pasti al giorno complici diversi fattori, dal prezzo dei mutui e degli affitti schizzati alle stelle, al costo della vita in costante aumento, ai salari rimasti invariati. Nel paese non è insolito trovare volontari che gestiscono centri di distribuzione di generi alimentari, grazie ai quali si recupera la merce rimasta invenduta nei supermercati e si sistema in pacchi preconfezionati, distribuendola a chi ne ha bisogno. Tra i volontari c'è Esther Linder, una fotogiornalista di Melbourne, che ha testimoniato la drammatica situazione in Hunger Games, la sua inchiesta pubblicata su The Monthly. Secondo i racconti di chi lavora nei centri di distribuzione di generi alimentari, si riporta che questi sono frequentati da persone che, seppur abbiano un lavoro, sono diventati dei veri e propri working poor. Se prima della pandemia, infatti, con un reddito medio si riusciva a vivere dignitosamente, oggi, dovendo affrontare spese irrinunciabili come mutui o affitti, sono stati costretti a rinunciare al cibo. Anche famiglie con doppio reddito e un livello di istruzione elevato si presentano per ritirare il loro pacco di viveri. I dati sono sconvolgenti. La Reserve Bank of Australia, in 14 mesi ha aumentato per 12 volte i tassi di interesse e quelli dei mutui dal maggio 2022 sono passati dal 2 al 6%. Si tratta della crescita più rapida degli ultimi 30 anni. Il governo ha nominato una nuova presidente della banca, Michelle Bullock. Si tratta della prima donna a ricoprire questo incarico. Ora sarà compito suo riuscire a far fronte all'inflazione in aumento e all'economia in stallo. Sono tanti i giovani che si trovano costretti a vendere le case per le quali avevano preso un mutuo, non riuscendo più a pagare le rate. Per molti, ormai, avere una casa di proprietà è diventata un'utopia a causa dell'elevato ritmo con cui i prezzi delle case e gli affitti sono lievitati ed essendo rimasti invariati i salari. Ma la crisi non colpisce solo l'Australia e emergenza anche in Nuova Zelanda. Eblema lampante di tale situazione è rappresentato da quanto succede a Queenstown, metaturistica nel sud dell'isola. Così c'è chi si ritrova a dover vivere in un furgone, a dormire sul divano di amici o a chiedere alle agenzie immobiliari di poter usare le case sfitte. E dall'Australia passiamo all'India, in particolare nello stato del Manipur, uno stato del nord-est del paese, dove i Kukki insieme ai Naga, le due etnie che compongono il 43% della popolazione, si stanno scontrando con l'etnia maggioritaria, i Meitei. Il servizio. L'India si anima di scontri tra etnie. All'inizio di maggio i Kukki e i Naga, i due principali gruppi etnici che abitano le colline dello stato del Manipur, nel nord-est dell'India, e che insieme costituiscono per il 43% della popolazione, hanno manifestato contro l'inclusione dei Meitei, l'etnia maggioritaria tra i gruppi tribali ufficialmente riconosciuti. I Meitei sono circa la metà dei 3,3 milioni di abitanti dello stato e sono in gran parte Hindu. In India, essere inseriti nella lista delle tribù ufficialmente riconosciute comporta diversi privilegi, dalle quote riservate nelle scuole e nella pubblica amministrazione all'accesso ai terreni in zone riservate ai gruppi tribali. Nello stato del Manipur, sia i Meitei che i Kukki hanno riconosciuto lo status di tribù, ma i Meitei, che controllano la capitale dello stato, da tempo accusano i Kukki di essere ingiustamente privilegiati. I Kukki, dal canto loro, si oppongono all'inclusione dei Meitei nella lista delle tribù ufficialmente riconosciute, perché temono che i privilegi allora assegnati darebbero più forza a quella che è già l'etnia maggioritaria dello stato. Ciò comporterebbe un rafforzamento ulteriore del loro dominio economico e darebbe loro la possibilità di comprare terreni sulle colline riservate ai gruppi tribali. I Meitei si lamentano per lo spostamento a valle da parte delle tribù delle colline, mentre i gruppi tribali delle colline denunciano una grave mancanza di infrastrutture che li costringe a spostarsi a valle. Da inizio maggio sono scoppiate le violente manifestazioni che, essendo durate settimane, hanno causato la morte di circa 130 persone, in gran parte di etnia Kukki. Più di 75.000 sono gli sfollati che si trovano in campi di soccorso alle city nello stato in condizioni precarie, dove le condizioni igienico-sanitarie lasciano ampiamente a desiderare. 40.000 uomini, tra soldati dell'esercito e paramilitari, sono stati inviati dal governo di Nuova Delhi, ma ci sono anche degli squadroni di vigilanza di entrambe le fazioni che hanno rubato armi alla polizia e seminano il terrore per le strade. Oltre alle abitazioni, 200 chiese e 17 templi sono stati distrutti. A Manipur, internet è bloccato da due mesi. Ufficialmente la misura è stata dotata per non far circolare notizie false, ma nel weekend l'alta corte del Manipur ha ordinato una revoca parziale del blocco. Biran Singh, governatore dello stato, del BGP, che è un Meitei, anni fa ha lanciato una campagna contro i coltivatori di papavero da oppio, che sono per la maggior parte nei territori dei Cuchi. Questo ha peggiorato i rapporti tra la comunità e il governo. Singh accusa Cuchi di spacciare droga e offrire ospitalità agli immigrati regolari. Entrambi gli schieramenti sperano in una mediazione del governo centrale che finora non c'è stata. Assordante il silenzio di Modi, primo ministro indiano, che per la sua inattività è stato ampiamente criticato. E lasciamo l'India per passare alla Grecia, per passare al nostro approfondimento di oggi. voliamo quindi ad Atene e lo facciamo insieme a due giornalisti esperti proprio dell'area della Grecia. Il primo è in studio qui con noi e si chiama Antonio Frate. Benvenuto Antonio. Buongiorno, ben trovati a tutte le persone in ascolto. Il secondo invece si chiama Dimitri Deliolanes, è un giornalista greco direttamente collegato da Atene in collegamento Skype. Benvenuto Dimitri. Ben trovati, buongiorno a tutti. Allora Dimitri, io parto proprio da te perché prima di entrare nella politica e prima di capire come sono andate queste elezioni e iniziare il nostro approfondimento, c'è un tema molto importante che riguarda l'ambiente e che riguarda quello che sta succedendo circa gli incendi. Ci sai dire di più? Sì, dico che il sesto, il settimo anno che è il periodo estivo a Grecia è devastata dai nostri incendi. La strategia del governo non è quella di raccontare il sistema di prevenzione e di raccontare gli incendi, ma è quello di evitare le vittime sgomberando interi paesi e cacciando la gente dalle sue abitazioni in modo che non ci siano vittime e che si sa alle elezioni poi contano. E quindi c'è una distruzione di tipo ecologico, ambientale è enorme perché questi territori devastati rimangono devastati oppure vengono costruiti in un secondo momento oppure ci mettono dentro le pale eoliche per produrre energia o altre cose comunque di fatto in un paese che soffre, anzi nelle città greche come Atene dove sto io in questo momento che soffre tantissimo per problemi di ambiente, di purezza dell'aria, dell'ambiente eccetera, si soffre e si soffre ancora di più. E questa è la nostra situazione. io ho la moglie a Patrasso, la quale da tre giorni che vorrebbe venire ma non può venire perché l'autostrada non è attraversabile dalle fiamme, l'autostrada è chiusa e quindi non possiamo circolare. Questa è la situazione, questa mattina stavo dicendo prima a Antonio abbiamo avuto anche delle immagini di violenza usate dai poliziotti per allontanare gente che pensava di difendere le proprie abitazioni fuori Ateneo con l'acqua disponibile in casa insomma per difendere e i poliziotti che li trascinavano per cacciarli, per farli andare via. Cosa veramente non dico del terzo mondo perché sembra offensivo per chi abita nel terzo modo ma sicuramente che non fa onore. Sicuramente molto critica, molto molto critica. Bene, grazie per questo aggiornamento riguardo gli incendi, ricordiamoci insomma quello che sta succedendo anche in Grecia sotto il punto di vista ambientale e parliamo di politica. Partiamo quindi dalle elezioni del 21 maggio, le prime che si sono celebrate nel paese. Antonio ti chiederei di farci un quadro nel spiegarci quali sono gli attori in campo. Allora il 21 maggio sono state le ultime elezioni con il vecchio sistema elettorale che è un proporzionale con uno sbarramento al 3% e sono state le prime invece che hanno visto la partecipazione al voto, quindi tra gli aventi diritto al voto i 17 anni. Si voleva quindi allargare il corpo elettorale. Su una votanti parliamo di intorno ai 5 milioni di aventi diritto al voto. Stranamente ma non tanto il primo partito è stato quello degli astenuti perché sono una percentuale di astensione molto vicino al 50%. Non hanno dato grandi sorprese per una volta i sondaggi che i sondaggi sono un po' come non sono delle Cassandre cioè perché Cassandre diceva la verità ma nessuno al momento la credeva. Invece i sondaggi in Grecia spesso non ne azzeccavano una. Invece questa volta non ci sono state grandi sorprese rispetto ai sondaggi. Ha vinto il partito al governo il partito del premier uscente Chiriakos Mitsotakis con una percentuale di voti vicino al 40%. Non è stata neanche una grande sorpresa il tonfo possiamo dire di Siriza guidato dal leader carismatico oramai perché quando si parla di Siriza si parla di lui, dell'ex premier Alexis Tsipras e poi che comunque si è mantenuto su una soglia del 20% molto lontana dal 30-31% delle elezioni precedenti e poi il partito socialista, il vecchio PASOC, il vecchio movimento socialista panellenico eccetera. Nelle prime elezioni andò fuori, rimase fuori quello che in Italia era un politico diciamo famoso più che per i suoi meriti o le sue competenze, per il suo look o per il suo modo di presentarsi, l'ex ministro delle finanze Yanis Varoufakis, è rimasto fuori. Cosa è successo? Perché sono importanti queste elezioni? Una pietra miliare. Perché poiché nessun partito è riuscito a formare una maggioranza all'interno del Parlamento, dopo vari passaggi il Presidente della Repubblica ha nominato il Presidente della Corte dei Conti come capo del governo per traghettare il Paese a nuove elezioni. Nuove elezioni che poi sono tenute il 25 di giugno con un nuovo sistema elettorale, approvato un paio d'anni prima mi sembra, e che prevedeva un premio di maggioranza per il partito, un bonus di deputati in relazione alla percentuale di voti ottenuta e quindi siamo arrivati al 25 giugno. Quindi mediante questo cambio di legge elettorale che però era già stata votata negli anni precedenti si è potuti arrivare a delle elezioni diciamo ex novo. Esattamente. Ok bene. In Grecia molto giustamente se cambia la legge elettorale sarà valida non per le prossime elezioni ma per quelle dopo. Quindi per questo Mitsotakis ha approvato questo sistema maggioritario con il bonus per la maggioranza che però alle elezioni di maggio non poteva essere applicato, si sono scoperte col proporzionale semplice e sono state applicate alle elezioni invece di giugno. Infatti la legge elettorale è stata votata nel maggio del 2020 se non ricordo male. Esatto. Non è quando è stato approvato, il problema è quando sarà valida. Sì, no, certo, certo. È valida le elezioni successive. Io sto al governo, faccio un sistema elettorale che mi sostiene, che mi appoggia e quindi vingo tutte le prossime elezioni, si vuole evitare questo quindi in modo che le prossime elezioni no, sono con un sistema elettorale fatto dal precedente a te governo e il tuo sarà per quelle dopo. Questa è la saggezza della legge. È stato molto chiaro. Esattamente. Allora, queste elezioni quindi l'ha vinte Mizzotakis, ma chi è Mizzotakis? Parliamo un po' di... Quanto tempo abbiamo? Allora, io lo... Quanto tempo abbiamo? Eh, poco. Io lo dico in mani... Più di 24 ore si pensiamo. Allora, io lo dico con la comodità di chi lo guarda da lontano, poi Dimitri Savrara ci delizierà con altri particolari di chi lo ha vissuto. Eh sì, assolutamente. Chirio Cosmizotakis appartiene a una delle grandi famiglie politiche greche del Partito di Nuova Democrazia. Diciamo che, almeno l'opinione di chi analizza la Grecia un po' dall'esterno e di chi la vive per qualche... diverse volte l'anno, che in Grecia più che partiti politici noi possiamo pensare a delle famiglie politiche, un po' quello che erano le famiglie... Dinastie, dinastie. Ecco, qui volevo arrivare. Infatti spesso i leader di questi partiti, parlo dei due partiti una volta principali, cioè il Pasocco, il Partito Socialista e Nuova Democrazia, più che dei leader politici hanno dei leader dinastici, nel senso che a turno i membri di queste famiglie, ripeto, più per meriti sul campo che magari devono ancora dimostrare, vengono eletti leader dei loro partiti. Vengono eletti leader dei loro partiti. La famiglia Mitsotakis ha una grande tradizione da questo punto di vista, perché il padre Costantino Mitsotakis fu primo ministro della Grecia nei primi anni 90, in un periodo anche molto delicato per i Balcani, perché era finito il comunismo in Albania, si era disciolta la Jugoslavia, se non sbaglio lui era presidente durante la guerra in Bosnia, nel 93, se la memoria non mi tradisce. La sorella la sorella di Kyriako Mitsotakis è la Dora Bakoyannis, che è stata già ministro degli esteri, porta il cognome del marito Pavlos Bakoyannis, perché in Grecia una volta che ci si sposa la donna prende il cognome del marito e lo mantiene. Anche nel suo caso Pavlos Bakoyannis poi ha fatto una brutta fine politica perché è stato ucciso durante un attentato di un gruppo terroristico il 17 novembre, che poi all'inizio degli anni, a metà degli anni 2000 è stato smantellato. Nella famiglia, questo poi il figlio di, attualmente il figlio di Dora Bakoyannis, quindi è sempre un Mitsotakis, sempre appartiene alla famiglia Mitsotakis, è sindaco di Atene. Ecco, diciamo che la sua famiglia è un'altra grande famiglia politica greca del Partito Nuova Democrazia, la famiglia dei Karamanlis. Anche i Karamanlis hanno espresso vari presidenti, vari primi ministri e un Costantino Karamanlis è stato anche presidente della Repubblica. Ecco, per quello che riguarda invece il PASOC, la famiglia di riferimento è la famiglia Papa Andreu, anche se in questo momento hanno ceduto un po' il passo, cioè il leader del Partito Socialista è un quarantenne rampante che però, non so se sto anticipando poi un po' le domande successive, è stato un po' a... Sì, sì, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo tra pochissimo, perché nel frattempo mandiamo la pubblicità e continuiamo tra poco. A tra poco. E eccoci tornati a Greenwich, continuiamo il nostro approfondimento, il nostro viaggio nella politica greca e lo facciamo insieme ai nostri due ospiti di oggi, Antonio Frate e Dimitri Degliolanes. Dimitri, vengo da te per continuare insomma il discorso, cosa ne pensi della figura di Mitsotakis? Chi è questo personaggio? Sostanzialmente, sostanzialmente Antonio ha detto, ha esaurito l'argomento, io aggiungo semplicemente rispetto alle dinastie che di fatto, malgrado che la famiglia Mitsotakis non venga dalla destra, venga dal centro, dai liberali, quindi all'inizio furono considerati un corpo estraneo dentro il partito conservatore, di fatto poi l'ultima dinastia è rimasta nella politica greca, perché i Karamanlis si sono ritirati a vita privata, non ci sono Papa Andreu ugualmente si sono ritirati, non ci sono stati successori in grado di tenere questa dinastia, quindi l'unica dinastia è rimasta quella dei Mitsotakis. Sto parlando di Kiriakos, l'attuale premier, allora lui è un economista, non è un politico e infatti le sue decisioni politiche, la sua presenza pubblica eccetera è sempre controllata da un numerosissimo staff, in parte composto da consiglieri americani, in parte da consiglieri greci che lo guidano in ogni sua posta, lui non parla mai senza avere un testo scritto, non accetta di parlare con i giornalisti senza sapere prima quali sono le domande e spesso quando gli capita di parlare che ne so, in mezzo alla strada gli fanno le domande e lui la risposta fa le gaffe, per cui è sempre molto attentamente controllato, quindi ha uno staff veramente molto efficace che gli prepara ogni sua mossa politica, lui non è un politico e infatti anche la sua politica al governo è una politica neoliberista, vecchio stampo tacetiano, per cui l'economia al centro, tutto il resto chi se ne frega, gli incendi per esempio, questa è la sua strategia, mettere la politica e i soldi al centro di qualsiasi cosa faccia il governo, poi il resto collaboratori, ministri di scarsa qualità devo confessare e quindi gestire in questa maniera. Adesso arrivando alle elezioni, la cosa che ha subito tutti i greci, anche quelli che evidentemente lo hanno votato, è il suo trionfo, il suo trionfo in due elezioni successive, c'è stato questo scontro tra i treni con più di 50 morti, c'è stato il naufragio fuori Pilos, ci sono stati gli incendi di cui parlavo prima, ci sono stati un sacco di cose drammatiche durante il suo governo e quindi c'era un altro governo, un altro premier che ne avrebbe pagato le conseguenze, invece lui è riuscito a non pagare nulla e a convincere gli elettori che lui è, non so. È il migliore, perché ha vinto, ha vinto anche comunque con una percentuale molto alta, perché insomma con le… Un trionfo con il 40%, esatto. Un trionfo. Un trionfo letteralmente, insomma una conferma da un certo punto di vista anche inaspettata, ma proprio su questo punto io mi vorrei concentrare con te Dimitri, come mai Mitsotakis ha effettivamente raggiunto questo trionfo che dopo l'incidente con i treni, dopo soprattutto il naufragio che c'è stato il 14 giugno e che quindi anche sulla politica migratoria avrebbe un po' dovuto scuotere le coscienze, soprattutto dei greci, che scantano anche le intercettazioni del programma Predator che controlla, tuttora controlla tutti, anche noi che stiamo parlando in questo momento, non lo so se mi ritengo degno di essere controllato i servizi segreti greci. Comunque, sì, è una domanda che ci stiamo ponendo, ci sono 10 milioni di greci, io penso che 10 milioni di greci si pongono, dal risultato delle elezioni come si pongono questa questione, come mai, perché ha vinto quest'uomo? Ci sono varie risposte, nessuna convincente fino in fondo, c'è chi parla, dice che lui ha convinto perché negli ultimi mesi non ha fatto una politica neoliberista, ha fatto una politica anche un po' chiennesiana, distribuendo soldi, dando una immagine di stabilità, di garanzia, mentre invece la proposta di Sirisa era una proposta molto debole, potrebbe essere questa. La mia opinione personale è che c'è un degrado culturale, dalla crisi in poi c'è stato un degrado culturale profondissimo in Grecia, la gente ha difficoltà a pensare, ha difficoltà a riflettere, è angosciata, è stanca, è angosciata e quindi sì, probabilmente gli hanno dato il voto dicendo vabbè, teniamoci questo, teniamoci questo così evitiamo avventure con un cambio di governo, ragionamenti di questo genere. È un'ipotesi, non esisto su questo, perché è difficile, non c'è stata una risposta convincente sul risultato delle elezioni. Francamente ve lo dico, dal giorno dopo del giudato ne parlo con parecchia gente di tutti gli orientamenti politici e non c'è una risposta. Gli stessi vincitori si stanno chiedendo se è un risultato di una molto efficace campagna preelettorale o se invece è consenso, con coscienza, con senso alla loro propoli. Questo è un problema irrisolto. Anche perché comunque da queste elezioni la sinistra ne esce assolutamente a pezzi. Io vorrei aggiungere una cosa, Dimitri, se ho visto anche da fuori, non so se è una delle tante motivazioni che non convincono fino in fondo. Volevo così sottolineare che oltre al trionfo di nuova democrazia in Parlamento sono entrati tre partiti che ideologicamente si collocano alla destra di nuova democrazia. Sono Soluzione Greca, Niki, la vittoria, e poi l'altro gli spartani. Gli spartani. Gli spartani, esattamente. Con punti di partenza molto differenti, perché pensiamo Soluzione Greca è il fondatore, il leader, è un giornalista imbonitore televisivo, uno che faceva le televendite, se ricordo bene. Di che cosa vendeva? Vendeva amuleti sacri. No, no, vendeva le lettere autografe di nostro Signore Gesù Cristo. Siete vero, le lettere autografe di nostro... Aspettate, a questo punto mi hai chiedito cosa vendeva esattamente? No, no, questo lo può dire. Le lettere autografe di nostro Signore Gesù Cristo. Era un imbonitore televisivo e noi abbiamo avuto Vanna Marchi e qualcun altro ha avuto, ecco, questo forse... Le lettere autografe. Autografe. In greco. In greco. Gesù Cristo. Neanche in aramaico, in greco, quindi. Ah, perfetto. Poi, Niki è un partito il cui leader, l'indomani dei risultati che lo hanno portato in Parlamento, ha detto finalmente la fede è entrata nell'agone politico, perché è un partito che fa della religione cristiana ortodossa, il discrimen dell'identità greca e dei rapporti della Grecia con gli altri paesi. E infine... È una democrazia cristiana antelitteram, no? Opposto elitteram, se vogliamo. Opposto mortem, visto che la democrazia cristiana non c'è più. E infine c'era l'altro partito, adesso, ecco, appunto, gli Spartani, che invece è una rinascita, una rinascita sotto menti di Tespoglio e un po' di Alba Dorata. Ecco, quindi questi tre, tra l'altro, questi tre partiti, in particolare, se non sbaglio, Niki, quello che fa della... No, veramente tutti e tre, in percentuali, in quantità diverse, tutti questi tre partiti hanno avuto una forte affermazione nel nord della Grecia, vale a dire dove il sentimento di frustrazione, di lutto, e questo lo posso dire con cognizione di causa perché ho vissuto lì in quel periodo, della questione macedone, che è la bellezza della lingua greca, la questione del nome macedonia, mentre in Italia e nel resto del mondo veniva chiamato o questione del nome macedonia o questione macedone, in Grecia per molto tempo si è usato l'aggettivo, ma non facendo riferimento alla macedonia, ma alla capitale, to, scopia, no. Quindi, come a dire, la macedonia veniva considerata talmente greca che la questione sul nome macedonia era una questione con scopia, non con il nome macedonia, perché la macedonia storicamente, nella coscienza delle persone, è greca. Tutto questo per dire, sicuramente quello che dice Dimitri, la situazione del dopo crisi, ma del dopo crisi ci sono delle ferite aperte, perché adesso non abbiamo tempo, perché la questione del nome macedonia è stata affrontata, come spesso accade all'estero, come spesso accade quando si parla di Grecia, è stata affrontata poco e in maniera inappropriata e ha lasciato delle ferite ancora aperte, dove dei politici furbi e scaltri hanno subito piazzato la bandierina. E non è un caso che questi partiti si siano affermati nel nord della Grecia, dove appunto la questione del nome macedonia è una questione molto molto sensibile. Certo, certo. Bene. Antonio l'ha detto, l'ha detto benissimo, l'ha spiegato benissimo, io ci aggiungerei un'unica cosa, che c'è, questi qua si sono spostati a destra di Nuova Democrazia, più a destra, perché Mitsotakis prima di vincere le altre elezioni, quelle del 19, aveva promesso che c'è l'accordo che aveva fatto Tsipras con il governo di Scopi, in cui veniva risolta la questione, quindi questo paese veniva riconosciuto anche dalla Grecia con il nome di Macedonia a 71 anni, Mitsotakis ha detto che lui avrebbe annullato questo accordo e quindi ha ottenuto i voti di questa gente, poi non l'ha fatto, giustamente secondo me, saggiamente non l'ha fatto, e quindi hanno mostrato la loro protesta, la loro delusione, eccetera, eccetera, spostandosi a destra, e in particolare, questo per spiegare il voto estremista di destra, in particolare a Macedonia, però ci sono anche problemi economici enormi, a Salonico, a Macedonia, la Grecia è un paese che continua a essere un paese molto povero, molto indebitato, probabilmente tra poco entrerà di nuovo in una situazione di controllo da parte della Banca Europea, dell'Eurozona, eccetera, perché è un'economista, ha applicato la ricetta di privatizzazione, di far venire qua gruppi monopolisti stranieri, però di fatto di produttivo, in Grecia c'è pochissimo, si vive di turismo e di edilizia, punto, questa è l'economia greca in questo momento. Certo, certo, assolutamente. Allora, in conclusione, diciamo, di questa nostra bellissima analisi che stiamo facendo insieme, mi focalizzerei davvero brevemente su come ne esce la sinistra, nel senso abbiamo parlato della destra, adesso diamo magari anche spazio alle opposizioni, da un lato c'è Tsipras che doveva, prego. Posso dire, così lascio molto più tempo a Dimitris, possiamo dire che la sinistra secondo me ne è completamente uscita, benché presente in Parlamento, ne è presente in Parlamento con Siriza che aveva come obiettivo nelle seconde elezioni quello di non andare sotto la soglia psicologica del 20%, è andata al 17%, ha portato come conseguenza Alexis Tsipras ha rimesso il mandato nel comitato centrale del partito, non so se si chiama così, ma insomma ai vertici del partito e credo che a settembre ci sarà la decisione su quale sarà la Siriza del dopo Tsipras. Il partito comunista greco, il KK Epsilon, ha preso qualche percentuale di voto in più, ma ha rispolverato temi come lotta di classe, sindacalismo rivoluzionario e quindi non è uscito dalla sua nicchia, perché Dimitris mi può smentire, il partito comunista greco non è mai voluto uscire dalla sua nicchia, cioè la vittoria alle sue elezioni è mantenere quello che è. Se vogliamo avere proprio una, diciamo che si è furbescamente preso la vittoria morale, è il Pasok, il cui leader, un quarantenne, Andrulakis, un 45enne, ha colto la palla al balzo per dire, dice, la vera sinistra, dice siamo noi, quindi si è rivolta agli elettori di sinistra per dire ricompattiamoci con il Pasok che fu. Curiosamente finisco, a dimostrazione che però di unità sinistra a livello di partiti non si possa parlare, nell'appello elettorale delle seconde elezioni Alexis Tsipras ha giocato la carta ultima, cioè non ha fatto appello agli elettori degli altri partiti di sinistra di votare per lui, ma si è rivolto agli elettori di nuova democrazia che magari speravano in un partito che fu, nel partito che fu e ha detto, dice guardate cosa è diventato il vostro partito, votate per noi. Ora quando un leader di un partito di sinistra si rivolge anziché agli elettori di sinistra, agli elettori di un partito di destra, penso che di unità di sinistra sia bella che andata. Assolutamente, la dice molto lunga. Dimitri Telegrafico, un commento su questo aspetto per concludere? La prima cosa sul Pasok, il Pasok non voleva rappresentare la sinistra anche perché non si sa bene, il suo leader ancora non ha deciso di un partito di centro-sinistra o di centro-destra, il suo partito è una persona veramente politicamente molto molto poco capace. La sua aspirazione era diventare il primo partito di opposizione e non ci è riuscito. Rispetto ai comunisti sì, su questo Antonio ha pienamente ragione, il problema dei comunisti è di rimanere in vita. In effetti il partito comunista greco e mi sembra l'unico partito tuttora presente nel Parlamento europeo, se non sbaglio. Quindi torna lui e cerca di creare un'area marxista-leninista, quel trattino, diciamo così. Parliamo di Varoufakis. Varoufakis ha subito due sconfitte, una dietro l'altra. Il suo partito ha grossi problemi oramai. qualche giorno fa ha cacciato la presidente del comitato centrale o dell'ufficio, non so come si chiama, perché ha salutato un imprenditore in una manifestazione, eccetera. Quindi ci sono enormi problemi di equilibri e su questa cosa bisogna dire che Sirisa ha preso grosse batoste, c'è stata la dimissione di Tsipras e c'è un processo serissimo, perché lo seguo da vicino, di adeguamento alla nuova situazione. Così non è andata bene, che cosa è il suo partito, che cosa vuole fare. E comunque sfruttando il fatto che è il primo partito d'opposizione che nel sistema politico greco conta essere il primo partito d'opposizione. Anche in Italia conta, il Parlamento, il primo partito d'opposizione, conta. Certo, però comunque assolutamente in Grecia ha sicuramente un altro assetto. Va bene, allora concludiamo il nostro approfondimento di oggi, ringraziamo qui in presenza Antonio Frate per essere stato con noi. Grazie Antonio. E salutiamo Dimitri De Liolanes, giornalista greco. Grazie ancora Dimitri. Buona continuazione. Grazie mille. E salutiamo i nostri due giornalisti greci per continuare il nostro viaggio nella Grecia e farlo attraverso l'ultima ospite di questa nostra terza puntata. Do il benvenuto a Roberta De Felice. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Benvenuta. Allora, continuiamo il nostro viaggio della Grecia e lo facciamo insieme a te. Ti chiedo innanzitutto chi sei e di cosa ti occupi qui in Italia. Io ho 42 anni e ho iniziato la mia esperienza in Grecia nel 1998 e oggi sono una ristoratrice, ho due ristoranti con la mia famiglia, mia sorella, mio cognato e mio marito li gestiamo entrambi e sono due ristoranti di cucina greca. Proprio perché io ho vissuto in Grecia di molti anni e ho avuto la fortuna e il coraggio nel 1998 di partire e di trovare una famiglia che mi ha accolto a casa e mi ha cresciuta perché avevo 18 anni di tanto tempo fa come una di loro, come una di famiglia. Quindi ho fatto tutte le mie prime esperienze lì, ho imparato a vivere, a lavorare, a collaborare. Poi ho fatto il bagaglio della mia esperienza e sono tornata qui in Italia e inizialmente con mia sorella abbiamo aperto un ristorante che si trova al centro e successivamente ho incontrato mio marito che casualmente aveva il nonno greco e mio cognato che è di origine greca, è italo-greco e quindi abbiamo portato la mia esperienza, la passione di mia sorella e la passione di mio cognato e mio marito e l'abbiamo inserita in tutti i locali che abbiamo e oggi io parlo di Grecia tutti i giorni, la mia vita passata che è stata un'esperienza unica perché loro hanno un modo di lavorare, di affrontare i problemi di tutti i giorni con un po' meno ansia che abbiamo noi italiani nell'affrontare tutto subito e risolvere subito i problemi. Loro hanno un modo davanti a un bel caffè greco che dura più sicuramente più di un espresso e hanno tutto un modo di affrontare le cose più semplici di noi. Io ho avuto la fortuna di incontrare queste persone che mi hanno insegnato il lavoro, mi hanno insegnato tutto quello che poi ho portato qua. Io sono felice della mia vita anche se comunque la vita di un ristoratore è la vita di sacrifici, però vedere la gente che torna dalle vacanze greche e assapore i nostri piatti e dice mi sembra di essere di nuovo lì, è bello e sentire i greci che vengono e dice ci troviamo a casa è sicuramente appagante. La mia storia è una storia molto bella per me, io ho avuto due vite, ho avuto la mia vita greca e poi ho ricominciato con la mia vita italiana portandoci la Grecia. Lì lavoravamo, avevamo... Lì dove, dove eri esattamente? A Kos, l'isola di Hippocrates, per questo uno dei ristoranti si chiama Hippocrates e lavoravamo lì, avevamo un chioschetto sulla spiaggia, poi lavoravo in albergo e... Che bello! Sì, molto molto bello, quindi sempre al contatto con gente diversa, etnie diverse, quindi... E poi ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente dove c'erano solo greci, quindi non avevo la possibilità né di parlare italiano né inglese, dovevo per forza capire loro e cercare di farmi capire, quindi piano piano ho imparato anche la lingua greca. Hai avuto difficoltà? Al inizio sì, molte, perché quando parlavano loro parlano sempre con molta enfasi, quindi sembrava sempre di essere arrabbiati, invece no, però la cosa bella è che finito il lavoro, dopo tante ore di lavoro, perché su un'isola lavori l'estate, lavori 8-9 mesi estivi e senza riposi, perché devi con i soldi dell'estate mantenerti l'inverno, che non è facile su un'isola. Però era bello che dopo 12-13 ore di lavoro uscivi, andavi nelle bar street e con un bicchierino di uso, uno yamas, era fatta la giornata, una giornata, dimenticavi la stanchezza e tutto e poi si ricominciava, però è stata un'esperienza bellissima e questo è quello che trasmettiamo alla gente quando viene da noi nel locale, infatti ecco dopo 17 anni di un locale, dieci anni dell'altro, posso dire che sono fiera di aver avuto questa esperienza e di essermi sentita greca in tanti momenti e tutte le volte che racconto della mia esperienza e della mia isola, perché quel profumo di gelsomino notturno che aveva all'isola di Kos, io lo rivivo in alcuni piatti o quando la gente mi racconta delle proprie vacanze e quel tappeto stellato che si trova solo nelle isole più piccole in Grecia dove ci sono poche luci e sono delle immagini di vita, sai, che ti porti poi dentro. Certo, che ti porti dentro, no? E che magari poi tu cerchi anche di ricreare in qualche tuo piatto, immagino? Sì, 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 in tanti piatti, noi facciamo una cucina tradizionale, in più abbiamo il nostro motto a portare a tavola quello che tu mangeresti per prima, nel senso che non puoi portare un piatto né che non conosci di cui non posso venderti una cosa se non conosco il sapore, non so come è stata fatta, non so. Noi accompagniamo proprio i clienti nel viaggio di una cena o di un pranzo, è una cucina etnica. Poi noi siamo da italiani, abbiamo la cucina italiana come cultura, ce la copiano in tutto il mondo. In Grecia è così? È difficile. Hanno lo stesso rapporto con la cucina rispetto a quello che abbiamo noi? In Grecia sono molto legati alla loro cucina, loro amano la loro cucina e la cercano ovunque. Per questo noi lavoriamo tanto con turisti greci, perché quando vanno all'estero mangiano, vengono in Italia, adorano la pizza, la pasta, i primi due giorni, ma poi vogliono la Grecia. La vacanza finisce con la cucina italiana. E ne vengono tanti? Sì, tanti. Io con un ristorante siamo al centro, quindi ovviamente è un pochino più turistico. L'altro è un pochino più spostato, però comunque sì. Lavoriamo con tanti greci locali che vivono a Roma. Ce ne sono tanti in Italia e in Roma? Molti, sì. Soprattutto studenti che vengono a studiare in Italia. Tipo Erasmus. Sì, sì. Quindi è forte la comunità greca a Roma? Sì, sì. Molto. E cercano cibo greco. Certo, giustamente. Ci fai qualche esempio? Di cibo greco? Sì. Beh, il pitagiros è il nostro cavallo di battaglia, soprattutto perché è fatto a mano, è fatto in casa. La musaca, che è un piatto storico, leggendario. I souvlaki, baklava, cataifi, questi sono i dolci, insomma. E un bicchierino di uso e rezzina non manca mai a tavola. Certo. Giustamente, giustamente. E senti, una domanda parlando di cibo greco. Ti confido questa cosa. Io amo lo yogurt greco. Sì. E amo fare colazione alla greca. In greca, sì. Tu, avendo vissuto, diciamo, queste due vite, riguardo proprio lo yogurt greco. Hai notato differenza rispetto a quello che arriva in Italia? Allora, quello che arriva a noi, quello che trovi nei supermercati, sì, è molto differente rispetto a quello che arriva a noi nei ristoranti. Lo yogurt arriva in latte da 5 kg e puoi tagliarlo con il coltello, per quanto è denso. E, ovviamente, il greco non ha la cultura dello yogurt con il miele e le noci per colazione. Il greco è più da pasta filo con spinaci. Ah, quindi sfatiamo questo mito? Nel senso, la colazione greca... Lo yogurt in Grecia viene accostato alla carne. Infatti, è la base del zazzichi, che è la salsa più famosa in Grecia, sì. Nei paesi nordici della Grecia, la salsa del zazzichi viene messa da parte e viene utilizzato proprio lo yogurt che accompagna sia il pitagiros che il panino, sia che accompagna tanti altri piatti. Proprio lo yogurt di base. Però come dessert ce l'abbiamo un po' noi italiani, ecco. Non è nella cultura proprio greca fare colazione con lo yogurt. Sì, sì, sì. Però è buonissimo. No, è molto buono. Abbiamo sfatato questo mito. Bene, meno male, Grey Witch serve anche a questo. Senti, Roberta. In conclusione, il ricordo più dolce che tu hai di quei dieci anni. Se tu devi pensare alla Grecia, devi pensare a Kos, la prima cosa che ti viene in mente qual è? Il profumo del gelzomino notturno alla sera, quando cammini per queste strade, il profumo di questo fiore. e l'ospitalità, il calore di questo popolo che è un popolo bellissimo. Sono molto aperti al prossimo. Sì, molto, molto. Più di noi italiani. Sì, sono molto accoglienti. Sono molto... Sei a casa. Ed è quello che noi facciamo sentire al ristorante quando entra la gente. Sei a casa. E questo è bellissimo perché ti senti libero di poter sbagliare e di poter entrare in un paese da straniero come ho fatto io e di sentirmi dopo pochi mesi una di loro. Certo, certo. E tra l'altro qua anche, insomma, gli antichi miti riprendono il concetto dell'ospitalità, no? Sì. Il fatto che l'ospite è sagro. Sì, è vero. Quindi immagino che questa cosa sia... Infatti, non so se sei mai stata in vacanza in Grecia, però... Sì, sono stata. Di una settimana di un turista italiano comunque che va in Grecia almeno due o tre volte ritorna nello stesso posto a mangiare perché loro hanno questo modo di fidelizzare il cliente con l'offerta di un frutto, di un dolce. Non so come spiegarlo. È una cosa che va vissuto e basta. Certo, assolutamente sì. Ebbene, con questo bellissimo auspicio, con il fatto che va vissuto e basta... Sì. Perché del resto è un paese per capire... Perché la Grecia... Perché la Grecia è la Grecia, ma... Le vale la pena. Vale un po' per tutti i paesi, no? Sì. Per capirli bisogna viverli. Giusto. Quindi salutiamo Roberta, la ringraziamo... Ciao, grazie mille a te per questa esperienza, grazie mille. Grazie mille. Noi ci vediamo, come sempre, sabato prossimo. Noi ci vediamo, come sempre, qui a Grevich. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.